Voglio anche ringraziare Lionello Cosentino perché se noi siamo in una condizione gestibile anche perché chi ha diretto nell'ultima fase il Partito Democratico aveva iniziato a lavorare per superare i problemi che c'erano. Noi abbiamo fatto qualche giorno fa una conferenza programmatica a cui avevamo invitato il procuratore di Roma proprio perché il tema di un partito che sappia essere argine alle infiltrazioni criminali di questa città era un tema che il Partito Democratico aveva assunto.